Buongiorno a tutti, oggi è venerdì 20 dicembre, leggiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 1, versetti dal 26 al 38. Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaretta, una vergine sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, ti saluto, o piena di grazie, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata, si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse, non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo, come è possibile? Non conosco uomo. Le rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Ecco, il Vangelo di oggi ci presenta, come abbiamo ascoltato, l'annuncio dell'angelo a Maria. Si tratta di un evento indispensabile per la venuta del Signore come salvatore dell'umanità. Dio decide di salvarci non dall'esterno ma dall'interno della nostra umanità, entrando nelle profondità, vivendo come ciascuno di noi ogni fase della vita, a partire dal seno materno in cui viene formato il corpo umano dall'interno. E questo evento che appunto oggi il Vangelo ci propone non può che aprirci allo stupore, alla sorpresa, all'accoglienza di una novità che si fa corpo anche dentro di noi, dentro la nostra esistenza da oggi. Non facciamo allora come Zaccaria che abbiamo appunto ascoltato ieri, non rispondiamo alla sorpresa di Dio col dubbio, ma facciamo come Maria. Magari certo chiediamo spiegazioni, cerchiamo conferme come ha fatto lei, però senza lasciare spazio al dubbio. Il dubbio distrugge la lode e genera solo lamentele e rimorsi. Dio invece si incarna per generare in noi la gratitudine, lo stupore, la gioia. Gesù viene in mezzo a noi, non per essere superiori a noi, ma per essere come noi, per metterci nel cuore la sua pace e farci vivere nella sua beatitudine. Dio ci offre la chiave della nostra liberazione, proprio come canta la liturgia oggi. O chiave di Davide, scettro della casa di Israele che apri e nessuno può chiudere, chiudi e nessuno può aprire, vieni, libera l'uomo prigioniero che giace nelle tenebre e nell'ombra di morte. Ecco, questa antifona ci fa percepire tutta la novità che ci attende. Condivido con voi allora oggi un piccolo passo del libro In nome della madre, scritto da Henry De Luca, in cui Maria stessa, in attesa di Gesù, parla con il suo bambino che vive proprio dentro il suo ventre. Ascoltiamo allora queste bellissime parole messe in bocca a Maria. Più del giorno ti stupirà la notte, è un grande grembo stracarico di luci. Nelle sere d'estate qualcuna si stacca e viene vicino fischiando. Pensa che io sono una di quelle luci e intorno a me c'è un ammasso di altre. Così è la notte, una folla di madri illuminate che si chiamano stelle. Di tutte loro solo io sono la tua. A guardarle fanno spalancare gli occhi e allargare il respiro. Ma tu non sai ancora cosa è il respiro. È questo su e giù del petto che ti dondola. Ecco è bellissimo questo dialogo tra la madre e il bambino che ancora non vede la luce. Allora restiamo nell'attesa dell'apertura nostra verso la luce insieme a Maria, semplice ragazza della Galilea che ha saputo portare dentro il suo corpo il Signore della vita. Buona giornata.